Da solo, Brooks a palleggio con la mano sinistra, 3 secondi, 2 secondi, non ha ancora fatto niente, fa saltare Ceron, il tiro lo prende in tempo utile e ha tanto di quel talento nel suo bagaglio tecnico da poter segnare. Un tiro che non era stato costruito, proprio nel migliore dei modi, Ceron però ha boccato alla finta, ecco il punto Brooks, è semplicemente stato molto più bravo. Il tiro da due perché c'è il tiro destro sull'arco dei 6.75. Avete visto, Ceron ha boccato alla finta, la perfetta esecuzione di Brooks.